Buongiorno da Edo, un po' verde oggi, anche se avrei dovuto puntare più sul rosso, visto che il tema della puntata di oggi del Buongiornissimo è inerente più alle red flags della security, con aziende che vengono bucate, bricciate e magari sono anche fornitori di appliance, di cyber security, device, software, cyber security in tutto il mondo si scoprono delle falle anche importanti, poi la risposta è un po' quella che è, la vedremo perché ci sono un po' di news accumulate in questo mese che secondo me vi interesserà sentire vale la pena di fare un po' di aggiornamenti e magari ragionamenti su quello che sta succedendo vi riporterò anche le considerazioni di alcuni analisti che hanno visto quello che sta succedendo e non sono felicissimi quindi puntata che sarà magari un po' più lunghetta, però spero comunque che sarà frizzante ed interessante e direi che andiamo subito, vai! Allora, è giovedì 25 gennaio e parto soft però e vado indietro di un po' di giorni in realtà perché questa è una news del 10 gennaio apparsa su Bleeping Computer che parla della compromissione di account Twitter ve ne riporto un paio di news di compromissioni di account Twitter che sono propedeutiche alle cose più cicciose che arriveranno dopo ma intanto butto lì così facciamo un po' di riscaldamento allora questa è la compromissione dell'account di Mandiant che tra l'altro è una compagnia che fa analisi di cyber security sono analisti cyber security anche piuttosto grandi, piuttosto quotati insomma ma sono stati bucati, ecco in gergo tecnico cioè qualcuno gli ha rubato l'account Twitter vado a leggervi però un po' da questa news di Bleeping Computer appunto quindi la subsidiary, perché poi è anche parte del gruppo di Google Mandiant ha appunto detto che il suo account Twitter è stato violato da una gang Drainer as a Service, DAAS e scopro tra l'altro in questa occasione l'esistenza di questo servizio Drainer as a Service cos'è il Drainer? il Drainer è un software che tu attacchi a un wallet di criptovalute di qualcuno e quello gli diciamo draina quindi gli aspira tutti, gli succhia tutti i soldi le crypto, i token, insomma tutto quello che sta nel wallet viene risucchiato da questo software quindi Drainer as a Service come abbiamo visto già anche con i ransomware sono quei servizi che tu paghi ottieni questo software crei la tua infrastruttura criminosa il tuo disegno criminale e sfrutti questo software per rubare soldi a qualcuno a questo punto poi dai una percentuale a quelli che ti hanno affittato il DAAS il Drainer as a Service e quindi funziona così in questo schema non devi avere neanche particolari conoscenze di hacking insomma attacchi un software crei una landing page di phishing fai un po' di social engineering e ce la fai in questo caso rubi l'account Twitter di Mandiant a quello che si dice, a quello che riporta Mandiant stessa con un attacco di tipo brute force quindi con un caro vecchio brute force provi tutte le password che ti vengono in mente e riesci poi ad entrare naturalmente se avessero avuto un 2FA, un two factor anche banalissimo con un codice via SMS avrebbero mitigato questa possibilità ma evidentemente non c'era, non l'hanno avuto quindi poi qual è stato il disegno di questa azione criminale hanno preso appunto a possesso dell'account hanno condiviso dei link che facevano redirect a siti di phishing appunto e lì hanno fatto collegare il portafoglio, il wallet degli utenti a questo Drainer e hanno rubato criptovalute si tratta di un account con 123.000 follower quindi comunque inizia a essere interessante il bacino di utenza poi dopo Mandiant ha detto che ha contattato X e si sono fatti ridare il controllo dell'account eccetera il wallet Drainer, se volete sapere un po' di dettagli tecnici si chiama ClinkSync ed era stato usato anche a dicembre per rubare fondi e token dagli utenti di Solana e come appunto vi dicevo prima chi usa questo servizio per rubare criptovalute e poi deve dare agli operatori che gli hanno affittato il 20% delle share di tutto quello che hanno rubato naturalmente il phishing era rivolto esplicitamente ai possessori e ai fan delle criptovalute perché le pagine promettevano di donare dei token di fare dei cosiddetti drop di token quindi credevano di collegare il wallet e poi dal wallet rubare tutto e la somma dei recenti attacchi con questo tipo di Drainer ha portato a un totale di perdite di 900 mila dollari secondo tra l'altro Mandiant quindi comunque ecco una cosa abbastanza frizzante e tra l'altro va anche un po' nel dettaglio su quello che sta succedendo su X Bleeping Computer perché dice X dall'inizio dell'anno è target, è soggetto a numerosi attacchi che hanno impersonato account di utenti con anche organizzazioni verificate su Twitter sai la cosiddetta, cioè la famosa spunta no? ecco verificate che sono state in realtà bucate da attaccanti che poi li hanno usati per ovviamente rubare criptovalute perché poi non so non è soltanto la facilità con cui si riesce a farla franca rubando criptovalute ma evidentemente è anche il pubblico stesso adesso non voglio dire, non voglio essere, voglio puntare il dito però anche il target è piuttosto facile no? il target di pubblico affezionato a criptovalute evidentemente è abbastanza facile da ingannare in questo senso forse un po' di cultura in più andrebbe diffusa no? e poi alcuni dati, alcuni richiami a precedenti impersonificazioni di account Twitter come quello che è successo a Netgear e a Hyundai anche soggetti ad account, a furti di account dello stesso tipo e inoltre sono dati che si stanno sommando su agenzie governative e anche business account che hanno le checkmark gold e grey sapete che adesso ci sono vari livelli di checkmark su X che in realtà vengono appunto briciate e poi pubblicano dei tweet fasulli con redirect a siti che sono scam di criptovalute quindi ancora di una volta questa è la situazione insomma che si sta delineando su Twitter io non so perché state ancora su Twitter onestamente ancora ogni tanto mi faccio questa domanda però evidentemente c'è ancora il bisogno di stare su quella che ormai è abbastanza una fogna comunque un ulteriore dettaglio che dà The Register è che secondo dati diffusi da Twitter stesso dal 2021 solo il 2,6% degli utenti totali di Twitter hanno abilitato una qualunque forma di two-factor authentication e il 74,4% di questo 2% di questi account usano un'autenticazione basato sugli SMS quindi il classico ricevi il token via SMS che è la meno sicura di tutte ovviamente e vedremo nella prossima notiziona che può essere bucata anche facilmente comunque avere una two-factor basata su SMS è comunque meglio che non avere nulla quindi meglio così che niente però insomma ci sono delle forme un pochino più sicure di multi-factor sarebbe bene abilitare quelle peraltro Twitter ha anche disabilitato la two-factor via SMS per gli utenti free in un tentativo insomma di alzare un pochino il livello di security ma evidentemente non è servito a molto vi dicevo della facilità con cui si buca anche la two-factor ebbene la notizia che vi do adesso conferma questa roba qua siamo ancora a 10 gennaio e viene briciato un altro account Twitter però che ha un peso ancora maggiore perché è l'account della SEC la SEC è la Securities and Exchange Commission quindi è l'agenzia governativa americana statunitense che governa appunto le transazioni finanziarie ebbene è stato briciato l'account e ha mostrato un post che annunciava una fake news in pratica annunciava fintamente falsamente che la SEC aveva approvato l'ETF quindi il fondo di Exchange Traded ecco non vi sto a spiegare cos'è un ETF allora ecco un ETF basato interamente sui Bitcoin e questo ha causato un immediato rialzo del prezzo dei Bitcoin stessi e la dichiarazione della SEC poi è stata proprio che l'account è stato compromesso e un post non autorizzato è stato postato la SEC non ha approvato il listing e il trading di questo fondo basato sullo scambio di Bitcoin e poi c'è una dichiarazione di X stesso di Twitter che dice che non sono stati loro briciati cioè i loro server sono al sicuro non sono stati compromessi ma probabilmente questa compromissione è stata dovuta al furto di un numero di telefono associato all'account di SEC che quindi poi è stato utilizzato per entrare con facilità nell'account questi sono i primi dati che si sono saputi il giorno della compromissione peraltro il tweet era falso non era stato approvato da SEC ma la notizia era vera in un certo senso perché già si sapeva da qualche giorno che la SEC stava per approvare un fondo ETF basato su Bitcoin cosa che infatti è avvenuta qualche giorno dopo però non doveva avvenire in quel momento con quelle modalità quindi evidentemente qualcuno che già sapeva, si aspettava della cosa ha approfittato per giocare un po', speculare un po' e difatti Bitcoin si è innalzato del 2,5% raggiungendo un massimo da 19 mesi di 47.900 dollari quando poi la SEC ha detto guardate che non è vero niente Bitcoin è di nuovo risceso a 45.100 dollari quindi è risceso del 6% un'altra delle belle cose che si possono fare con le crypto questi giochi con rialzi e abbassamenti così repentini vado a un articolo di Diversi invece di qualche giorno fa proprio di due giorni fa che conferma quanto la SEC poi ha riportato cioè che il furto di account è stato dovuto proprio a un breach del sistema 2FA cioè la SEC stessa ha detto qualcuno ha rubato un numero di telefono associato al nostro account hanno fatto una resettata password e sono entrati tranquillamente questo tipo di attacco si chiama SIM swapping quindi se si riesce a intercettare un numero di telefono poi si riesce a impersonare la persona che va a resettare password eccetera poi uno si chiede ma come mai su un account che è così anche prezioso e sensibile come quello di SEC non era abilitata una forma di multifactor più potente, più sicura SEC ha detto che la multifactor era abilitata precedentemente sull'account X dell'agenzia ma è stata disabilitata dal supporto di X alla richiesta dello staff di SEC in luglio del 2023 perché avevano avuto dei problemi ad accedere all'account non meglio identificati quindi a luglio del 2023 hanno chiesto a X di disabilitare il multifactor su questo account e questo è stato riabilitato soltanto dopo che si sono reso conto che l'account era stato abricciato il 9 gennaio e quindi adesso dicono che il multifactor è attivo su tutti gli account e su tutti i social media però hanno fatto passare 7 mesi con il multifactor disabilitato perché avevano avuto dei problemi ad accedere cioè evidentemente qualcuno l'aveva trovato scomodo no? e quindi per favore disabilitatelo che mi trovo scomodo ad accedere al mio account ufficiale dell'agenzia governativa dell'exchange commission no? e quindi disabilitiamolo perché abbiamo più comodità che meraviglia ma attenzione che c'è della meraviglia anche nelle prossime news che vi do la prima riguarda Juniper Networks Juniper Networks è un'azienda che produce switch, router, apparecchi di rete insomma con anche naturalmente i software, i sistemi operativi che ci sono installati sopra ed è un'azienda grande che fornisce compagnie in tutto il mondo, agenzie governative insomma è un'azienda che possiamo definire abbastanza critica tra l'altro è in procento di essere acquisita da HP, Hewlett Packard Enterprise, HPE che sarà poi oggetto di un'altra news verso la fine della puntata comunque Juniper Networks vado a leggere da un articolo di The Register del 15 gennaio quindi una decina di giorni fa che dice che più di 11.500 device di Juniper Networks sono esposti a una RCE quindi una remote code execution, una vulnerabilità di tipo RCE e i ricercatori Infosec stanno facendo pressione per applicare le patch che la mitigano urgentemente e questo è uno scenario che si ripete per Juniper perché a agosto del 2023 era stato oggetto di una vulnerabilità simile sul loro Junos OS una vulnerabilità sempre di tipo RCE ed è questo sistema operativo che gira sui firewall SRX e gli switch EX e questa vulnerabilità, questa ultima vulnerabilità quindi che ha una track CVE 2024 invece impatta il software J-Web che è un'interfaccia di configurazione che è esposta su internet che tra l'altro è una delle cose diciamo che più gravi da fare è esporre su internet interfacce di amministrazione e questa CVE ha una severity score quindi un punteggio di gravità di 9,8 che è tra l'altro come proprio quello dell'anno scorso che è un punteggio ovviamente molto grave peraltro e poi lo vedremo meglio la vulnerabilità di agosto dell'anno scorso non è stata patchata quasi da nessuno ci sono una marea di aziende ancora che hanno quei device con quella versione del software ancora non patchata si ritorna sempre nella stessa situazione che abbiamo già detto anche con Log4Shell ci sono delle vulnerabilità critiche, la gente lo sa, le patch ci sono però non vengono applicate, i software non vengono aggiornati e questo tipo di vulnerabilità, quello del 2024 è una vulnerabilità di tipo out of bound cioè, vado a leggere dall'articolo un attaccante può sfruttare una vulnerabilità in scrittura out of bound per raggiungere vari tipi di obiettivi come ottenere privilegi di root, denial of service o appunto RCE quindi esecuzione di codice senza la necessità di autenticazione riprendo qua la parola un attimo per spiegare rapidamente l'out of bounds si definisce out of bounds l'errore di un software che permette la scrittura in un'area di memoria che è fuori dal limite ecco appunto out of bound della memoria dedicata alla funzione, alle variabili che sta allocando quel software quindi è un bug proprio del software che va a permettere a qualcuno di andare a fare delle cose sulla memoria che non sono sotto controllo di quel software quindi qualcuno che riesce a sfruttarla e a capire come è strutturata una certa area di memoria di un device ecco può andare poi a fare quello che vuole in tutto senza preoccuparsi di quali privilegi di amministrazione perché a quel punto si scrive dalla memoria quello che si vuole quindi questo viene definito out of bound quindi scrittura fuori dal limite allocato ed è, riprendo poi la lettura una delle vulnerabilità che è definita a più alto rischio perché è colpevole del più alto numero di incidenti di sicurezza e proprio questo tipo di bug sono quelli che l'industria sta cercando di risolvere con lo spostamento verso linguaggi definiti memory safe come appunto Rust quindi memory safe vuol dire proprio che il linguaggio cerca di impedire che una qualunque funzione vada a scrivere fuori dalla memoria che ne è stata allocata mi sposto su Bleeping Computer e mi sposto su un'altra azienda che si chiama Ivanti e Ivanti è un'azienda che produce invece software per monitoraggio di rete, gestione della rete gestione dei dispositivi in una rete aziendale ed è anche questa un'azienda molto grande che fornisce agenzie governative, business enterprise insomma anche questa è un'azienda che è particolarmente critica nelle infrastrutture, nella supply chain cosiddetta bene Ivanti anche qua è oggetto di due almeno due vulnerabilità molto gravi che sono sfruttate attivamente quindi vado a leggere dall'articolo ci sono due vulnerabilità zero day appunto le zero day sono quelle vulnerabilità che sono scoperte prima che esista una patch che la mitiga e riguardano Ivanti Connect Secure VPN e Policy Secure che è un NAC cioè un Network Access Control è un sistema che gestisce gli accessi alla rete e queste due vulnerabilità sono attualmente sfruttate l'ha scoperto Volexity che è un'azienda che si occupa di Cyber Security vedendo che molti attaccanti, molti gruppi stanno sfruttando la CVE una CVE 2023 e una CVE 2024 che riguardano vulnerabilità di Command Injection in attacchi che si stanno verificando già dall'11 gennaio e dice Volexity le vittime sono distribuite globalmente variano molto in dimensione vanno dai piccoli business a alcune delle più grandi organizzazioni del mondo che includono compagnie Fortune 500 in vari mercati in vari tipi di industrie la lista delle vittime scoperte da Volexity include agenzie governative dipartimenti militari compagnie di telecomunicazioni nazionali contractor della difesa naturalmente tech company banche agenzie finanziarie organizzazioni accounting consulting aerospace insomma c'è veramente di tutto e c'è di che preoccuparsi perché sono agenzie che hanno dati molto sensibili e dice poi questo articolo di BB in Computer Ivanti si è appunto committata nel rilasciare le patch per queste due zero day che sono appunto attivamente sfruttate nel prossimo giro di rilascio di loro patch e invitano appunto gli amministratori di rete a applicare queste misure su tutti i device su tutti i software che hanno in giro per le loro organizzazioni peraltro se vedete anche questa mappetta con i numerini di tutte le organizzazioni briciate in giro per il mondo vedete che anche noi italiani facciamo la nostra porca figura perché abbiamo 127 a quanto pare strutture colpite da queste vulnerabilità che vabbè magari sono poche in confronto alle 928 della Francia o le 5000 degli Stati Uniti però insomma fanno comunque il loro numero è un numero che inizia ad essere alto per la dimensione anche del nostro mercato Ivanti dice che queste vulnerabilità permettono agli attaccanti di eseguire comandi arbitrari e tra la lista di tool usati in questi attacchi ce ne sono vari però segnalo zipline passive backdoor che già avevamo visto in altri attacchi l'anno scorso insomma che è un malware che si mette a intercettare il traffico di rete e poi può creare del reverse shell dei proxy praticamente permette di fare quello che si vuole poi nella rete col traffico della rete intercettato completamente e su questa roba che riguarda Ivanti un approfondimento l'ho trovato su The Stack e vi leggo che tra le misure che ha proposto Ivanti c'è appunto almeno due ci sono appunto almeno due step l'applicazione della patch fornita da Ivanti stessa e poi il l'esecuzione di un tool che si chiama Integrity Checker Tool che va appunto a vedere se tutto è stato sistemato però questa risposta di Ivanti è ritenuta abbastanza debole da molte organizzazioni che si occupano di cyber security infatti vado a leggere l'articolo molte di queste compagnie ecco non sono particolarmente impressionate dal tipo di risposta che ha dato Ivanti e una compagnia in particolare che si chiama Watchtower ha detto e vi leggo testualmente noi odiamo i dispositivi SSL VPN quindi si riferisce esplicitamente alle VPN non il loro concetto ma che sembra che siano state costruite con l'equivalente del mettere delle stringhe con su scritto secure quindi sicuro ovunque e poi lasciate lì a marcire per vent'anni ma ci fanno giù abbastanza pesante e quello che rende la situazione ancora più offensiva proseguo a leggere la dichiarazione di Watchtower è la risposta di Ivanti o meglio la mancanza di questa risposta alle vulnerabilità che in pratica si limita a un file XML da applicare che fa una mitigazione con delle patch che invece saranno disponibili dal 22 gennaio e questa è tutta la risposta che ha dato Ivanti naturalmente il 22 gennaio è qualche giorno fa ma questo articolo era appunto del 15 quindi qualche giorno dopo che queste erano state scoperte sarebbe arrivato il ciclo di rilascio di sicurezza di Ivanti che avrebbe patchato proseguo in questa dichiarazione noi siamo stufi della mancanza di responsabilità che si pigliano queste organizzazioni quando i loro device sono letteralmente il cancello tra internet e il network interno di un'organizzazione e sono incredibilmente critici sono posizioni sensibili in qualunque architettura network e l'articolo in conclusione fa un riferimento a una dichiarazione del Dipartimento della Difesa americano che ha detto che le VPN sono una minaccia alla sicurezza enterprise perché creano un percorso netto nel perimetro della network aziendale quindi permettono senza particolari controlli di autenticazione all'accesso ad avere accesso a risorse di rete protette quindi insomma l'EWPN è oggetto di particolare attenzione anche da parte di agenzie governative e a proposito di agenzie governative la CISA che sarebbe la Cyber Security and Infrastructure Security Agency quindi l'Agenzia per la Cyber Security americana ha emesso il primo ordine esecutivo dell'anno per chiedere a tutte le agenzie governative nazionali di mitigare immediatamente due vulnerabilità di Ivanti una che è una zero day del 2023 e una è quella che vi ho appena detto appunto di quest'anno che se appunto sfruttate insieme permettono poi attaccanti di avere libero accesso alla rete e appunto la dichiarazione della CISA dice che queste condizioni sono un rischio inaccettabile alle agenzie FC e B che sarebbe Federal Civilian Executive Branch e questo richiede una azione di emergenza immediata questo cosa vuol dire vuol dire che tutte le agenzie che rientrano sotto questa definizione devono necessariamente implementare tutte le azioni di mitigazione proposte da Ivanti stessa quindi l'uso dell'Integrity Check Tool e poi tutti gli step ecco appunto compreso l'applicazione di quegli XML che si diceva e poi le patch quando saranno disponibili sono tutti gli step che le agenzie devono per legge ecco applicare applicare in questo contesto e indovinate tra le altre cose cosa fanno gli attaccanti una volta che riescono a entrare nelle rete aziendali beh volete che si facciano mancare un bel crypto miner no e installano anche dei miner di criptovalute così che possano sfruttare anche un po' di potenza e di energia in più dalle rete aziendali senza che nessuno se ne accorga e minare delle criptovalute quindi questi miners sono stati scoperti da volexity e grey nose e sono degli xmr rig o xm rig non lo so non sono addentro questa roba comunque xm rig sono dei miner di criptovalute poi anche dei malware basati su rust insomma che ancora bisogna un po' analizzare però vogliamo farci mancare l'aspetto criptovaluta di questo attacco direi di no perché no e la comunità degli esperti del cyber security è abbastanza critica nei confronti della risposta che hanno dato sia Juniper Network che ivanti a queste vulnerabilità molto gravi anche una risposta di tipo tecnico cioè del come hanno sfruttato il meccanismo dell'assegnalazione e assegnamento delle CVE che sappiamo essere un po' complesso però insomma essere uno strumento fondamentale per divulgare problemi di sicurezza quando vengono scoperti insomma e ci sono delle regole molto precise che bisogna seguire per ecco far sì che questo sistema sia utile a tutti per capire quali sono le vulnerabilità e quali sono gli step per mitigarle una ad una le CVE appunto identificano un singolo problema e insomma ci sono alcune critiche che vado a leggere da un articolo che trovo su The Register che è di qualche giorno fa e dice ci sono molti critici che stanno accusando le tech company di non seguire estrettamente le regole quando devono riportare ecco delle vulnerabilità alle autorità appropriate e sia Juniper Network che Ivanti hanno appunto attirato critiche da membri della comunità Infosec per come hanno gestito la disclosure di queste vulnerabilità nelle scorse settimane in particolare il gigante del networking appunto Juniper è stato accusato di pacciare di aver pacciato le falle di sicurezza senza riportarle come vulnerabilità stand alone singole come appunto dovrebbe essere la CVE mentre invece Ivanti è stata accusata di aver accorpato insieme più vulnerabilità sotto una singola CVE cosa che non si dovrebbe fare infatti un ricercatore di Watchtower che si chiama Alice Hammond ha detto di aver riportato un certo numero di problemi di cyber security a Juniper Network nel corso del 2023 e poi però di non aver trovato nelle CVE che sono state divulgate tutte quelle che lui aveva segnalato soltanto alcune quindi evidentemente hanno divulgato soltanto alcune delle issue di sicurezza che avevano ricevuto appunto da Watchtower e il ricercatore inoltre fa notare questa pratica di aspettare il ciclo di rilascio delle patch diciamo il ciclo normale delle patch di Juniper anche per fixare questi problemi che sono molto gravi invece di rilasciare delle patch fuori dai cicli normali per andare immediatamente a tappare queste falle ecco questo anche è un problema che viene riportato e per quanto riguarda i Vanti c'è un thread su Mastodon che spiega un po' delle cose critiche come ad esempio il fatto che un ricercatore si è accorto che in una singola vulnerabilità CVE del 2024 in realtà ci sono più problemi che sono tutti riconducibili a un problema di tipo RCE e tutti risolti con una sola patch però comunque sono problemi distinti e quindi secondo le regole del CVE program dovrebbero essere segnalati con ID separati distinti la risposta di Vanti a questo è stato che comunque queste vulnerabilità venivano risolte da una singola patch e quindi hanno ritenuto di segnalarle in una singola CVE cosa che però è scorretta secondo appunto i ricercatori concludo questo lungo viaggio nelle vulnerabilità di Vanti con alcuni numeri che ci vengono dati da un articolo di Ars Technica che ho trovato ieri che dice che a martedì mattina di questa settimana la compagnia di cyber security Censys ha scoperto ha rilevato che ci sono ancora 492 VPN di Vanti che sono ancora infettate da malware delle 26.000 che sono esposte su internet e più di un quarto di tutte queste VPN compromesse sono negli Stati Uniti quindi ci sono questi numeri abbiamo 121 VPN di Vanti affette da malware negli Stati Uniti ma in classifica orgogliosamente ci siamo anche noi siamo un po' più bassi abbiamo lo stesso numero di VPN infette del Canada ne abbiamo 13 però sapete quanto è grosso il Canada noi insomma ce la battiamo con il Canada quindi insomma dare che ce la facciamo salire in classifica e chiudo con questa nota di colore geopolitico che ci fa sempre piacere sapere insomma perché un membro appunto di questa agenzia di questa agenzia di cyber security Censys ha detto in un email che molte prove suggeriscono che le persone che stanno sfruttando i malware in queste VPN sono motivate da obiettivi di spionaggio cosa che è confermata anche da ricerche di Volexity e di Mandiant e Volexity dice che uno dei gruppi ecco sospettati di essere più attivi in questi sfruttamenti è un gruppo che è riconosciuto come UTA 0178 questo nome in codice ed è probabilmente un gruppo cinese tra l'altro supportato proprio dal governo a livello nazionale e Mandiant conferma dice che la motivazione principale di questi attacchi è appunto lo spionaggio quindi e in ultimissimo per non farci mancare niente vi ricordate che la scorsa puntata abbiamo parlato del breach a Microsoft che è qualcuno che è riuscito ad avere accesso alle email di alcuni corporate account executive account sfruttando un account di test configurato male ebbene lo stesso gruppo di attaccanti russi è riuscito ad entrare in HPE quindi Uled Packard Enterprise e ci correghiamo anche a Juniper Network perché HPE sta acquisendo proprio Juniper Network vabbè ma il punto è che ad aver acceduto ad aver preso possesso di alcuni account email di HPE è il gruppo conosciuto come Midnight Blizzard che è lo stesso che è entrato in Microsoft e che poi sono gli stessi che sono conosciuti come Cosibear APT29 o Nobelium e sono sempre quelli dietro all'attacco a SolarWinds di nuovo io non so esattamente come riescono a identificare a risalire così precisamente a un gruppo così poi elusivo di cybercriminali però con molta precisione sia Microsoft che HPE hanno puntato subito il dito contro questo gruppo russo che tra l'altro si pensa sia parte dell'intelligence agency della Russia SVR però vabbè a parte questo il dettaglio di questa news è che in un report alla SEC perché anche qua le compagnie come in Italia sono obbligate a fare disclosure di queste vulnerabilità a un'agenzia nazionale insomma in questo report HPE notifica che in dicembre 2023 hanno scoperto di essere sotto attacco da questo gruppo russo ma tra l'altro credono che l'attaccante abbia avuto accesso ai loro sistemi sin da maggio 2023 poi a luglio HPE è intervenuta per mitigare e bloccare tutto ma a quanto pare a dicembre si sono accorti che in realtà il problema c'era ancora comunque in conclusione HPE ci dice che questo attacco non dovrebbe essere in alcun modo collegato a quello di Microsoft boh e per chiudere la puntata cyber security due link che riguardano la security il primo ve lo consiglio tantissimo si intitola playing with fire how we executed a critical supply chain attack on PyTorch ed è esattamente quello che dice il titolo cioè è tutta la descrizione di un attacco che è stato fatto sulla supply chain di PyTorch sfruttando dei meccanismi vulnerabili in GitHub Actions che poi sono riusciti a pushare appunto tra le dipendenze di PyTorch dei pacchetti dei malware appunto e c'è tutta la spiegazione insomma di come è stato possibile sfruttare questa roba eseguire questo attacco è un articolo lungo molto tecnico però se volete capire un po' come funzionano queste dinamiche ve lo consiglio assolutamente è sul blog di John Stavinsky IV questo è il nome che leggo nel titolo e comunque vi lascio naturalmente il link in descrizione e in ultimissima un piccolo in realtà articolo di divulgazione sul blog di One Password si intitola Security in 2024 Our Experts Prediction quindi una serie di insomma di 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 predizioni ecco di quello che sarà il 2024 i temi cali del 2024 sulla Cyber Security appunto presi dal team di One Password quindi si parla ovviamente soprattutto di PassKeels e comunque ve lo consiglio sul blog di One Password poi vi lascerò naturalmente anche di questo il link in descrizione oh siamo arrivati alla fine di questo lungo viaggio vi ringrazio di avermi seguito se siete arrivati fino qui so che è stata magari una puntata un po' più pesante richiede un po' più di attenzione però insomma sono temi a cui tengo particolarmente anche come ecco parte di OpenSSF insomma mi mi prego particolarmente divulgare questi temi e spero che siano insomma stati seguiti perché sono particolarmente importanti ma detto questo una piccola nota stasera proprio stasera 25 gennaio giovedì è anche tardi per dirvelo però insomma la butto lì lo stesso sarò a Modena al GDG Google Developer Group un meetup appunto al GDG Modena a fare un talk su WebAssembly magari se vi se vi capita di e non lo sapevate siete lì in zona magari fate un salto ci vediamo lì questa sera ah approfitto per ricordare anche a tutti quelli che non seguono il mio canale YouTube che ho pubblicato un video che non è podcast e parla della storia della PlayStation in 5 minuti insomma ci ho messo un po' di impegno quindi magari lo spammo un po' perché insomma mi fa piacere se me lo guardate e vi dite un po' cosa ne pensate ma davvero ho finito tutto e noi ci vediamo la prossima puntata del Buongiorno ciao ciao Grazie a tutti.